Laura Scarabonati porta alti colori dell'Italia ed è la capitana indiscussa della rappresentativa italiana qui ai mondiali di Vicenza. Sì, è da quando mi sono impegnata nella mountain bike orientamento e da quando ho mollato la corsa per la mountain bike che i risultati sono stati fin da subito brillanti e sono a questo mondiale per fare il meglio delle mie possibilità. Una medaglia ci può stare però ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Laura, una stagione 2010 difficile, un 2011 che è iniziato nel migliore dei modi però. Sì, è iniziato subito in febbraio con una bella vittoria nel World Ranking e ho vinto tutte le gare nazionali, campionati italiani long e ho fatto delle belle gare giù a Castelfiorentino ultimamente dove c'era presente anche la campionessa mondiale long Christine Schaffner che è rimasta dietro nella gara regina che è proprio la long e quindi insomma sono fiduciosa. Grazie. Grazie.